musica vuoi provare? io ti faccio una domanda tipo ti dico come ti chiami? tu tutte le volte che ti dico che ti faccio la domanda però la devi rispondere riprendendo un po' la domanda facciamo una prova? come ti chiami? io mi chiamo valerio cognome? pecarelli il mio cognome è buono tipo se mi chiedi il nome io mi chiamo alessandro io mi chiamo alessandro jacoviello mio nome è riccardo il mio cognome è riccardo e martino sono confuso un attimo il motivo perché sono finito a giocare in porta è che la prima volta che sono stato in porta il mister mi ha detto che ero dotato l'evento è stato da parte del mio allenatore un semplice grazie dopo una partita vinta a rigore una semifinale di un torneo vinta a rigore sono un semplice grazie che però dietro a quella semplice parola se nascondevano molti altri significati portiere vabbè ti devo pensare il complimento più bello che mi hanno fatto sono stati i miei genitori dopo una partita che non era passato niente mi hanno detto che ero stato bravo il mister ha detto che sono stato bravissimo e e poi è stato un grande un bravissimo alla grande bravo che era un pallone molto difficile da parare si è stato molto bravo grande e salvato la squadra in questo campo ho imparato quando i mister parlano non bisogna interromperli rispetto per i compagni di squadra e nel nella sensibilità sensibili come sono i calciatori professionisti e ha perfezionato tutte tutte le cose che sapevo fare di ciò la tecnica della cosa perfetta è così così più o meno oppure così ha detto così però meglio così grande dammi 5 sei stato grandissimo se parassi come parli saresti fortissimo è Grazie a tutti.